E' un uomo forte, vedrai che si riprenderà. Life, oltre l'immaginazione. Io ti sono vicina, lo sai. Life, il primo grande film senza immagini. L'audio movie. Vai a casa ora. E' da stamattina che sei qui, ti fai una doccia, ti riposi un po'. E restiamo io e Chloe questa sera. Devo dire che mi è capitato raramente di avere a che fare con una professionista come te, Luisa. Oltre che bravissima, è su questo, direi, una delle regine del doppiaggio, sicuramente. Ma una professionista, nonché una persona con una sensibilità come la tua, dove bastava mezza parola perché tu interpretassi correttamente le intenzioni sotto la mia direzione. E' stato veramente eccezionale. Sono molto, molto felice che tu sia nel cast di Life. Ti ringrazio ancora una volta. Grazie per essere nel cast di Life. Grazie a te. È stata un'esperienza nuova. Così particolare, con degli effetti per quel poco che ho sentito. Nel senso che così particolari... Non l'avevo mai fatta. Insieme ce la faremo. Audio Movie. La realizzazione di una colonna audio come fosse quella di un film. Solamente che le immagini le mettete voi. Pensavo questo di te l'altra sera e sono stato tentato di chiamarti. Dell'alma ma della disperazione. Sarà come assistere ad un film senza vedere le immagini. Mi dispiace ma io non mi fermerò. Con l'Audio Movie diamo e vogliamo conservare la possibilità all'ascoltatore di continuare ad immaginare attraverso la propria creatività ciò che sta ascoltando. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.